Un polo museale tra Gela e Piazza del Medina è l'obiettivo del comitato Gerensis Populus. Una richiesta formale è stata inviata alla regione siciliana in merito alla riorganizzazione delle strutture periferiche. Il nuovo assetto organizzativo del Dipartimento dei Beni Culturali in Sicilia prevede l'accroppamento delle strutture museali, secondo, sottolinea Gerensis Populus, una sbrigativa operazione di perimetrazione territoriale, semplicisticamente ricalcando i confini delle vecchie province. Questa operazione sarà probabilmente vanificata tra qualche mese a seguito dell'entrata in vigore della legge di modifica che ha già soppresso le vecchie province, sostituendole con i liberi consorzi alle città metropolitane. La nostra proposta è quella che, piuttosto che ridisegnare i confini dei poli archeologici solo sulla base di quelli che sono i confini delle ex province, di tener conto dell'identità storico-culturale. La proposta sarebbe quella di creare un polo che abbia una propria autonomia e che veda camminare, gela con i suoi beni culturali, con Piazza Armerina, la Villa del Casale, tutto quello che è chiaramente nel comprensorio di Piazza Armerina. E che dovrebbe dare una risposta immediata e positiva alla vostra richiesta? Questo programma di ridisegno dei poli archeologici dovrebbe trovare a breve il suo completamento con l'approvazione in giunta. Per cui noi abbiamo sollecitato l'assessore Arramo, abbiamo inviato anche al Dipartimento regionale, abbiamo anche sensibilizzato la presidenza della regione Sicilia perché riteniamo che adagiarsi sui vecchi confini delle province sia assolutamente anacronistico e non premi assolutamente quella che è l'identità culturale storica di Gela che storicamente con la creazione di un polo che vedrebbe premiato il territorio che si sviluppa attorno al fiume di Gela potrebbe vederci a fianco a Piazza Armerina. E dunque sarebbero dei vantaggi notevoli per la città? Chiaramente si potrebbe anche creare una sorta di circuito che vedrebbe con ad esempio il pagamento di un unico biglietto la possibilità di accedere ai siti sia di Piazza Armerina che di Gela. In un momento storico come quello che sta attraversando Gela con chiaramente la crisi che attanaglia l'intero territorio sotto vari aspetti, un'attenzione è una sensibilità maggiore anche sotto questo punto di vista, certamente ce l'aspettiamo, la pretendiamo e Gela lo merita.